Musica Turna e si rinnova con eleganza e stile il premio nazionale ai marchigiani dell'anno, premio internazionale Porto Novo Ancon, promosso dall'Aix, Associazione Italiana Cultura Sport, nato nel lontano 1990 su inventiva del presidente del comitato regionale Aix Marche, Giorgio Sartini, che per onorare la marchigianità ha deciso di premiare quanti con il loro impegno promuovono il nome delle marche in Italia e nel mondo, in diversi settori, ma sostanzialmente con quello spirito e caratteristiche tipiche di chi è nato in questa straordinaria regione. Il premio, che quest'anno taglia il traguardo dei 25 anni, 25 anni di eccellenze marchigiane, ha tra gli altri il patrocino del Parlamento Europeo della Regione Marche, del Consiglio Regionale delle Marche, dell'Università Politecnica delle Marche e delle cinque province. La serata, ottimamente organizzata con la supervisione di Sartini, ha avuto come palcoscenico il bellissimo Telecelsior La Fonte di Porto Novo, che ha accolto premiati, premiandi, autorità, ospiti ed amici in una location di suggestiva classe ed armonia. L'impegno è continuo, io non ce l'ho solo con questa manifestazione, che è una delle più belle che l'AICS possa riproporre o proporre alla città, alla regione e all'Italia intera. L'impegno è tutto l'anno, la nostra associazione fortunatamente ha, nella prerogativa sua, di fare tante cose, tra cui la cultura, il turismo e tanto altro. Certo è che noi chiudiamo l'estate, anche se è luglio, la chiudiamo perché giustamente anche gli altri devono andare in ferie e devono godersi queste magnifiche giornate di questi giorni. La chiudiamo con una serata con illustri personaggi e che le Marche ne tenga profitto, perché noi lo facciamo anche per la nostra città, per la nostra regione, per la nostra provincia. Il volano nostro e l'impegno nostro è quello proprio di riproporre, di dare un impuzzo in più a questo territorio. Se qualcuno lo capisce, se qualcuno lo apprende, sono 26 anni, bene, altrimenti io continuo lo stesso finché lui vorrà. Senta, come vengono identificati i premiati? Ci sono personalità che vengono da ogni parte della società civile? Come arrivate a questi nomi? Dunque, noi abbiamo cinque province. Ogni provincia ha un suo presidente e ogni presidente nel suo campo, nella sua zona, nel suo territorio, sceglie il nome. Lo va centellinando, lo va cercando e poi ce lo propone a noi come regionale. Un comitato tecnico vaglia ancora, perché il passaggio non è uno solo. Il comitato tecnico accetta o meno, perché è giusto che il personaggio vada vagliato, come se fosse un curriculum. Alla fine lo portiamo nel comitato d'onore, che è composto questa sera da 18 personaggi, che poi sentirete e vedrete, lo capirete. A questo punto, quando lo vota loro, significa che per noi va bene quello che è stato scelto. Sicuramente, però, io ho dato un'impronta a questo, perché i marchigiani devono essere sempre solo cinque. Cinque, perché sono i cerchi dell'Olimpiadi, i cerchi della nostra, perché noi facciamo specialmente cultura. Questa comunque è una serata che è anche una festa, no? È un momento per mostrare le eccellenze, per dare anche coraggio agli imprenditori. Come voi vedete, ci sono prodotti della nostra terra e fanno a gara, a venire a questa serata, come ad altre, e proporre le loro attività, il loro modo di esprimersi, dal vino, dai formaggi, dal pesce, dal prosciutto. Se voi vedete, qua è una festa nella festa, perché ognuno vuole proporsi e dire, io faccio queste cose, perché poi non finisce qua, l'autoscritto non finisce qua. Essendo anche presidente della Proloco, cerco anche di ricomporre tutto quanto e poi di portarlo sul territorio, di farne la miglior conoscenza possibile. Sono personalità del mondo, dell'industria, del commercio, della cultura, dello sport, dell'ambiente, dello spettacolo, del turismo, della ricerca scientifica, a ritirare l'ambito premio, che negli anni è stato vinto da Walter Scavolini, Vittorio Merloni, Diego della Valle, giusto per citare qualche nome, e che in questa edizione è andato, tra gli altri, a Vittorio Sgarbi, Monsignor Georg, segretario generale di Papa Francesco, e José Altafini. Premio internazionale Porto Novo a José Altafini, prima cosa, lo dedica a qualcuno o se lo tiene tutto per sé? I miei premi sono miei, non li do nessuno, no, scherzo. Il riconoscimento fanno molto piacere, anche se magari poi uno non sa se ha meritato o meno. però devo dire che ogni premio importante, o più grosso o più piccolo che sia, è sempre importante. Questo premio è legato allo sport, alle personalità che hanno lasciato qualcosa in questo mondo? No, io ritengo che la nostra carriera, naturalmente, è stata bellissima per quanto riguarda me, e perciò se vengo riconosciuto ogni volta così con qualcosa, qualche premio, sono ben felice di farlo. Non classifico i premi se è più bello o meno bello, per me sono tutti uguali, perché sono fatti col cuore, quando è fatto col cuore è più bello di tutti. Una battuta sul calcio, su questo mondo che adesso attraversa l'ennesima fase difficile, complicata, eppure c'è tanta passione, tanto amore verso questo sport. Ma io quando avevo vent'anni sentivo che il calcio, la gente diceva che il calcio stava per finire, quando avevo trenta diceva che il calcio è finire, e così è andato avanti per tutti questi anni, il calcio non è mai finito. È un calcio che io non riconosco questo qua, perché la poesia del calcio non esiste più, non esiste quella passione che c'era prima, oggi è tutto improntato sul business, gli affari, e perciò il calcio per me non è quello che giocavo io. Ma il comitato d'onore, da poco presieduto da Sauro Longhi, rettore dell'Università Politecnica delle Marche, e composto oltre che dai colleghi degli altri atenei marchigiani, da rappresentanti istituzionali del mondo imprenditoriale, accademico e del giornalismo, non si è limitato a riconoscere i migliori nel proprio settore, ma è andato a scovare le eccellenze, portandole così agli onori della cronaca. Mi fa naturalmente molto molto piacere, di fatto siamo in coerenza, gli atenei sono delle imprese, anche loro, imprese della cultura, imprese della conoscenza, e sempre più lo saranno nei prossimi anni, quindi come dire, mi sento a casa, è per me un grandissimo onore rappresentare il mondo universitario, ha un significato particolare questo premio per me, perché è regionale e marchigiano. Io in un paio di occasioni, subito dopo la laurea e subito dopo il dottorato, sono andato all'estero, così come tanti ragazzi, a cercare, come dire, di fare ricerca, un mestiere che affascina tantissimo, e poi ho deciso di tornare e mettermi a disposizione dei nostri territori, questo mi ha pagato, e quindi deve essere un messaggio positivo anche per tutti quei giovani che cercano nella regione Marche, nei nostri territori, una valvola di sfogo per fare il lavoro che sta a loro a cuore. Premio ai marchigiani dell'anno, a Maria Grazia Capulli, la cultura, il giornalismo, ma soprattutto anche la provenienza, partire da una regione come le Marche, da un piccolo territorio, perché sappiamo le sue origini, e arrivare abbastanza in alto. Insomma, grazie, ma il territorio non è piccolo, per me è un grande territorio, perché le Marche, soprattutto in questi ultimi anni, stanno avendo veramente un grande, c'è tanto fermento, ci sono tanti giovani che avviano progetti interessanti, tanti personaggi, e poi è una regione sempre più amata. Io mi ricordo un giorno, Ivano Fossati durante un'intervista, fa sai, io voglio comprare una casa nelle Marche, perché le Marche sono la Toscana dei Furbi, che secondo me è una definizione bellissima, perché è un posto fantastico, però non così abusato, così, insomma, non ci vendiamo in maniera, proprio esagerata, però è una regione che merita, quindi sono molto legata a questa terra, quindi mi sento molto onorata per questo riconoscimento, insomma. Monsignor Giulio Dori, un premio che rivendica le radici, ma guarda anche a quello che lei, insieme ad altri premiati, state facendo o comunicate. Un premio è sempre un momento importante, perché ci costringe un po' a fermarci, e a riflettere, a prendere maggiore coscienza di chi siamo, dove andiamo, che cosa siamo chiamati a fare. Quindi questo riconoscimento ai marchigiani dell'anno è un'occasione preziosa, non solo formale, così un po' istituzionale, perché si ritrovano un po' rappresentanti delle varie istituzioni, ma perché ci consente di vedere le realtà che maggiormente si fanno vicine ai processi vitali della nostra regione. Io come esponente del mondo ecclesiale, ovviamente rappresento ed esprimo tutto il desiderio della comunità ecclesiale di far fronte a un momento difficile del nostro paese, ma anche della nostra regione. Ultimamente sono stato chiamato a un lavoro più di carattere nazionale come assistente ecclesiastico dell'Università Cattolica, e vedo in particolare la realtà dei giovani, quella che da una parte soffre maggiormente la crisi che stiamo vivendo, ma anche quella componente della nostra società che ha maggiore dinamismo e maggiore carica per affrontare le sfide del nostro tempo. Quindi se vogliamo è un po' un premio alla Chiesa che fa parte del tessuto vivo della nostra regione, ma anche una Chiesa vicina ai giovani che vuole essere di sostegno a coloro che rappresentano il futuro del nostro paese. Si chiamano premi marchigiani, però lei che non è marchigiano ha detto io ho voluto conoscere questa regione per capire alcune cose direttamente, mentre prima le conosceva indirettamente da ambasciatore. Che cosa ha scoperto di questa terra? Ho scoperto gente onesta, gente che lavora molto tenace in un mondo come questo che è complicato e che ha bisogno di punti di riferimento. Ecco, questa è una terra che mi è piaciuta subito perché l'ho trovata vera e molto innovativa, flessibile. io penso che esempi come quelli marchigiani se ce ne fossero di più nel nostro paese se si moltiplicassero saremmo in grado di portare fuori il paese veramente fuori dalla crisi e molto rapidamente. Devo dire che faccio questo lavoro da tanti tanti anni e le marche sono veramente mi sono rimaste nel cuore da subito appena l'ho conosciuta ho cominciato a conoscerla bene una decina di anni è dietro e sono rimasto colpito soprattutto dalla gente. belli paesaggi buona la cucina ma soprattutto è speciale la gente. E anche questa serata dimostra come le persone possono fare la differenza ognuno ha il proprio ruolo? Le persone fanno sempre la differenza l'hanno storicamente fatta nel nostro paese e sono molto fiducioso perché abbiamo nel nostro DNA in Italia la capacità di venire fuori dalla crisi che è soprattutto una crisi psicologica oggi è un mondo complesso difficile ma noi italiani abbiamo questa capacità di adattarci a circostanze difficili sono sicuro che ce la faremo le marche le vedo nel pelotone di testa delle regioni italiane che stanno in grado di interpretare il nuovo che viene fuori dal mondo grazie a tutti grazie a tutti